Buongiorno, sono Alberto Gagliati, titolare dell'azienda Rosa Cisalpina. Siamo un vivaio specializzato in produzione di rose, piante ornamentali e piante stagionali. Da alcuni anni abbiamo affiancato alla nostra attività principale anche una vendita di prodotti legati al mondo del giardinaggio e dell'agricoltura. E abbiamo da poco, dal primo di marzo, inaugurato il nostro nuovo punto vendita adiacente alla sede storica dell'azienda. Quindi affianchiamo l'area produttiva con una nuova area commerciale in cui avremo tutta l'esposizione delle nostre produzioni principali. Una delle nostre mission principali è la cura della qualità dei prodotti che noi coltiviamo tutti i giorni. E abbiamo cercato di riproporre anche nei prodotti che scegliamo di commercializzare nella nostra azienda lo stesso spirito delle aziende con cui lavoriamo. Per cui, quando si è trattato di decidere il partner per le sementi, sia per il mondo professionale sia per l'obbista, abbiamo contattato Bottos e abbiamo intrapreso la collaborazione che ci ha portato alla realizzazione della parte del nuovo negozio dedicata interamente all'azienda Bottos, dove sono disponibili tutte le sementi nei formati obistici, nei formati grandi per i professionisti, le concimazioni e i prodotti complementari per la cura e la manutenzione di un prato al miglior modo possibile. La nostra azienda è ormai giunta alla terza generazione perché iniziò molti molti anni fa, nel 1948, come produzione di piante da frutta, rose e sementi. Ed era un mercato all'inizio del boom economico poi che ci fu nel dopoguerra. e quindi possiamo dire che i nostri predecessori sono stati un po' dei precursori di questi tipi di coltivazione. Nel corso del tempo l'azienda si è evoluta molto in base alle modificazioni del mercato e in base anche e soprattutto a dei condizionamenti esterni che nel 1994, durante l'alluvione che molti ricorderanno, è stata praticamente rasa al suono. Una peculiarità che ha sempre contraddistinto l'azienda, a volte in maniera più marginale, a volte in maniera più marcata, è stata la produzione e soprattutto l'ibridazione di rose, quindi l'ottenimento di nuove varietà di rose. L'attività che in questi ultimi anni abbiamo deciso di rilanciare, per cui avremo, con un po' di tempo, perché i tempi tecnici per l'ottenimento di nuove varietà non sono immediati, ma otterremo presto una nuova serie di rose dalle caratteristiche innovative e che presenteremo poi nei prossimi anni a tutti gli appassionati. Eccoci in uno dei nostri rosetti sperimentali, in cui incrociamo le varietà da noi selezionate per ottenere i nuovi ibridi. Quindi in questo momento dell'anno le rose sono state potate e si preparano per la nuova stagione in cui andremo a impollinare le piante secondo l'obiettivo poi di ottenimento delle varietà previsto. Poi in realtà quello che la natura ci dà ha una variabilità altissima, quindi difficilmente prevedibile, però è anche il bello del nostro lavoro. Ci potete trovare a Crescentino, in via Leopardi 4, in provincia di Vercelli. Siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato e nei mesi primaverili anche di domenica. Ulteriori informazioni le potete trovare sul nostro sito www.rosacisalpina.it oppure sulle nostre pagine social Facebook e Instagram. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!